Salve a tutti, con il decreto salva infrazioni pubblicato in gazzetta ufficiale, il decreto legge numero 69, è stata messa una pezza solo in parte al problema riguardante il riconoscimento, l'attribuzione della carta docente al personale precario. Sappiamo che dopo la pronuncia della Corte di Giustizia europea dello scorso anno, quasi tutti i tribunali italiani si sono orientati nel senso di riconoscere ai docenti precari il diritto ad avere erogata la carta docente per il servizio che hanno prestato anche con contratti a tempo determinato. Adesso interviene il governo col decreto legge 69, il quale a fronte della pronuncia degli organi di giustizia comunitaria riconosce e apre alla possibilità di attribuire la carta docente anche al personale precario a partire dall'anno scolastico 2023-2024, limitando tuttavia questa possibilità ai soli docenti precari assunti su posti vacanti e disponibili, che tradotto significa solo ai supplenti che verranno nominati con incarico fino al 31 agosto. Quindi se da un lato si apre ad una grande platea di interessati, dall'altro comunque restano fuori ancora numerosissimi precari, in particolare tutti quei precari che vengono nominati annualmente sui posti vacanti in organico di fatto, disponibili quindi in organico di fatto, quindi con contratto fino al 30 giugno, in particolare i numerosissimi docenti nominati su posti di sostegno che vengono nominati con contratto fino al 30 giugno e restano fuori anche tutti i supplenti con contratti brevi, quindi con l'attribuzione di supplenze brevi e temporanee. Quindi se da un lato si è arginato il grossissimo contenzioso che si è innescato a partire dallo scorso anno, sicuramente il contenzioso non finisce qui perché resta aperta una larghissima fetta di personale precario a cui ancora non viene riconosciuta la carta docente se non per via giudiziale. Arrivederci a tutti. Grazie. 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 Grazie.